Oh! Dove sono? Dove è finito il mio cappello? Ah, eccolo qua! Bacchetta! Bacchetta! Dov'è la mia Bacchetta? Non ricordo la formula per far apparire la Bacchetta e questo è un problema! Bacchetta! Vieni fuori! Sarà perché ho mangiato la Bacchetta o mi appare una polpetta? Anche il cappello adesso che è messo! Ma perché devono venire tutti a casa mia questi pazzi? Meglio una polpetta che una bacchetta! Eccola qui! Lo sapevo! Alla fine me la son ricordata la formula! Adesso, visto che questo mio cappello cade sempre, Bacchetta Pamello, cambiami il cappello! Ah! E finalmente ho anche il cappello! D'ora che ho la bacchetta e anche il cappello ho bisogno solo dei miei utensili per svolgere le mie mansioni da ipergrande mago! E così farò la mia prima maledizione nel mio grande calderone! E potrei stupirvi con altre mille magie, anche se qui non c'è nessuno, ma farò apparire il secondo calderone! E quindi il terzo calderone e per finire anche il quarto calderone! E voilà! Abbiamo il tutto! E tu chi saresti? Sono un mago! Un mago molto potente! E sono qui per cercare degli ingredienti per le mie pozioni! Come puoi vedere! Tu hai per caso qualche ingrediente eh? Eh? Pozioni! Veramente gli unici ingredienti che ho qua sono gli ingredienti per lo slime! Ma di certo non li do uno sconosciuto come te! E poi come hai fatto ad arrivare qui in camera mia? Sono un mago potente! E posso apparire dove voglio! Ma che cos'è questo slime? È qualcosa di magico? Facciamo così! Se io ti dico cos'è lo slime e ti do anche gli ingredienti, dopo puoi insegnarmi a fare una magia o qualcosa del genere? Qualcosa da maghi? Non posso! E non posso perché non hai una bacchetta! Ma quello che posso fare invece è regalarti una pozione magica! A fare fatto? Eh non so cosa sia questa pozione magica ma sicuramente è molto interessante! Quindi ok! A fare fatto! Ok signor mago io mi siedo qui e aspetto questa pozione magica! Ma che cosa fa questa pozione però? Non me l'hai mica detto! Fammi ci pensare! Dunque hai nominato gli slime prima no? È vero? Sì! Posso farti una pozione che ti aiuti a creare diciamo uno slime magico? Ok non so come sia uno slime magico ma va bene mi curiosisce! Molto bene ho già tutto qui nella capoccia! Bene iniziamo subito! Con i glitter e un po' di sapienza ci vorrà tanta pazienza! Foglie di prezzemolo, bacchie di alloro e ci aggiungo anche un po' di pomodoro! Con la sapienza di un mago potente stai attento a quel serpente! Ah! Che sapore sublime! Che profumo signori! Ma sta creando una zuppa o una pozione? Basilico? Prezzemolo? Pomodoro! Pomodoro? Mi dovrei fidare a berla secondo voi? Non mi fido molto! Questo sta bollendo un po' troppo! E con la sapienza di questo mago potente ora ti bevi anche questo ingrediente! Questo calderone lo so solo un grande vagone! Ho 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 E la pozione, mia cara, è qui pronta per te Ti rimane solo una cosa da fare Molto importante Cosa? Berla, ovviamente È qui pronta E la passo a te Attenta! Brucia Ok Bevi, bevi, bevi Dai, bevi Bevi mentre bolle Ok Bevi, forza Tutto ad un sorso Bevi tutto Brava Ancora Devi finirla Bevi la tutta No, ne ho porto abbastanza La devi bere tutta altrimenti non funzionerà Ah, che buona questa pozione Com'era? Buonissima, deliziosa, devo dire la Che l'avevo detto Zuppa più buona che ho mai mangiato nella mia vita Hai visto? Sono anche un bravo cuoco Certo Tieni Dovrebbe fare effetto tra pochissimi secondi Quindi mettiti pure comoda E aspettiamo Pazientemente Questo cappello Non se ne può più Dovrò fare anche una pozione per te Beh, ma non succede niente Che cosa devo fare ora con questa pozione? Dovrebbe avere effetto subito Ho solo Prurito Potrebbe essere un effetto collaterale della pozione Però non ti preoccupare Passerà È solo un piccolo prurito Ok L'importante è che passi Naccia, devo smettere di grattarmi Altrimenti Mi farò male Metto la mano così Uffa, che prurito Signor mago Che cos'è questa? Una mano da lupo mannaro Una mano da lupo mannaro E mi sembra così Che cosa ci fa sulla mia mano? Che cosa è successo alla mia mano? Questa è un'ottima domanda Non saprei proprio Oh no Anche l'altra mano mi prude Vuol dire che mi sto trasformando Questo è molto strano Ma io non ho fatto mica una pozione polisucco Bacchetta Cosa hai combinato? Fammi ci pensare un attimino Fammi controllare Cosa avrò sbagliato qui? Ma non è che per caso C'è qualcun altro in questa stanza? O in questa casa? Sì Il mio cane Merlino Anzi Ha proprio il nome di un mago Lo sapevi? Merlino Oh no Ora capisco tutto Probabilmente un pelo del tuo cane Sarà caduto in uno dei miei calderoni E avrà rovinato la mia pozione Per sempre Quindi è caduto un pelo nella pozione Io non mi trasformerò in un cane O in un lupo Non saprei Io potrei cominciare ad andare intanto Dove? Dove vuoi andare? Io tornerei a casa mia Così Allora Allora se tu hai bevuto la pozione Con il pelo del tuo cane Merlino Che ti hai trasformato in un potenziale lupo mannaro Allora dunque La mia pozione La mia pozione era una pozione per uno slime magico Quello che potresti fare secondo me Ci sono pochissime possibilità Ma vale la pena provarle E provare a trovare tutti gli ingredienti slime E fare uno slime Magari c'è una piccolissima possibilità che tu ti possa salvare Piccolissima Eh sì Perché altrimenti Rimarrai semplicemente un lupo mannaro per sempre Facile no? Quanto tempo? Pochissimo Devi sbrigarti Prova a uscire fuori in giardino Ma mi fa già male l'altra mano Come faccio a fare lo slime con le zampe? È per questo che ti devi sbrigare Ok ragazzi Sbrughiamoci E troviamo tutti gli ingredienti slime Le avventure di Anita Stories Non finiscono mai Mi raccomando lasciate un bel mi piace E se questo video raggiunge i 40.000 mi piace Faremo tornare il mago Anche se non so se mi conviene Visto come è andata questa volta Andiamo Ma la paletta È vivo Abbiamo già trovato un ingrediente Fantástico Lo appoggio qua E andiamo a cercare gli altri adesso Sìììì la colla è viola Quindi mi manca solo la soluzione per lenti e il bicarbonato Devo dire che sta andando bene per fortuna Il problema è che l'altra mano mi sta dando molto prurito E anche i piedi Quindi ho paura che stia avvenendo la trasformazione E non trovo gli altri ingredienti Non trovo la soluzione per lenti e il bicarbonato ragazzi ho trovato tutto ecco qua andiamo a portarli subito al mago e speriamo che funzioni questo contro incantesimo signor mago ecco li ho trovati tutti per fortuna dai sbrighiamoci dimmi subito che cosa devo fare bene molto bene hai raccolto tutti gli ingredienti devo dire dai sbrighiamoci cosa devo fare ora beh io direi di cominciare a pezzare alla ceretta molto divertente ma io non intendevo alla mano mi tedevo ai piedi dimmi cosa devo fare mi sa che si deve sbrigare allora in quale in quale padella no non padella in quale calderone cominciamo molto male se già sbagli i nomi non mi ricordo dire questa ok dai speriamo che funzioni purtroppo non c'era tantissima colla ma funzionerà lo stesso vero ma io spero di sì devo sbrigarmi oh che prurito ti conviene sbrigarti mia cara altrimenti anche l'altra mano diventerà perosissima oh no come faccio ora che ha due mani da lupo questo è un bel problema non riuscirò mai ad addensare lo slime né a prenderlo in mano quale sarà la prossima cosa a trasformarsi mi spunterà una coda forse la testa inizieranno a crescerti le orecchie ad aprire questa cosa ma non è che potresti aiutarmi magari signor ma io sono impegnato con la mia bacchetta ok forse può bastare io proverò a mettere un po della mia magia qui dai dai devo ancora addensarlo ma come faccio con queste mani difficilissimo ti aiuto io con la mia bacchetta sembra una schifezza credo che siamo a un punto difficile con questa paletta e queste zampe proviamo ad aggiungere ops mi ho messo troppo ma forse almeno si attiverà velocemente forse si è attivato guarda guarda è pronto lo so fa schifo è orrendo ma l'importante che sia uscito come fa ora è davvero orribile devo dire ora come cosa che cosa devo fare come faccio a tornare normale devo fare un incantesimo qui nel calderone aspetta un secondo ma prima sbriga si è tutto tornato come prima hai sciolto la maledizione della pozione polisucco non è mica da tutti eh ora è giunto per me il momento di andare bene ragazzi siamo riusciti a vincere anche questa sfida contro il mago cattivo mi raccomando lasciate un mi piace se non mi seguite ancora su instagram andate a seguirmi il nome è anita stories e ora vi lascio qua quattro cosnelline su cui cliccare per vedere i miei altri video cliccate su quella che preferite e buona visione ciao ciao